Forse ce l'abbiamo fatta. Roberto, mi senti? Eccomi, ciao, buonasera. Ah, meno male, era colpa del Bluetooth, meno male, ce l'abbiamo fatta. Buonasera, Roberto Priolo, che prima avevo presentato, a mio avviso, molto molto bene. Pallacanestro, viola, si riparte da qui con un progetto giovanile. Roberto Priolo, per chi non lo sapesse, è uno dei volti più attivi nel basket federale e non solo negli ultimi anni. Che ci puoi dire di questo nuovo progetto, di questo nuovo gruppo giovanile, Roberto? Come sta andando? Sta andando bene, fammi fare la premessa che è ovviamente estremamente importante. Non possiamo parlare realmente di nuovo progetto perché sostanzialmente questo è un progetto che parte da diversi anni. È un gruppo che è sostanzialmente composto da un nucleo storico che con il tempo è arrivato, siamo arrivati quest'anno a questo nuovo progetto con Pallacanestro, viola, che ci ha portato all'iscrizione al campionato di Ander 16 d'eccellenza. Per cui è un gruppo abbastanza storicizzato, che non può essere considerato nuovo. Sta andando bene, sta andando per quello che in questo periodo, questo momento particolare comporta, con tutti i sacrifici del caso, abbiamo ripreso a metà gennaio. Contenti di poter riprendere nel momento in cui la federazione ha pubblicato la possibilità con le squadre che potevano partecipare ai campioni di eccellenza di riprendere gli allenamenti, per cui siamo nuovamente in campo da metà gennaio, ed era anche ora per tutta una serie di motivi. Abbiamo fatto una scelta ben precisa, che era quella di sostanzialmente anticipare determinati protocolli che poi si sono perfezionati successivamente a tutela dei ragazzi, a tutela dello staff e a tutela anche dei genitori. Per cui noi abbiamo fatto la ripresa con l'effettuazione del tampone, che noi ripetiamo a cadenza bisettimanale proprio per dare questa tranquillità a tutti quanti, anticipando quelli che sono i protocolli che sono previsti per i campionati di eccellenza, che prevederanno anche in questo caso questi tamponi di 15 giorni. Fa più piacere vedere che sono dei ragazzi che sotto certi aspetti sono estremamente grandi, nel senso che da metà gennaio, che tra DAD, turnazioni di scuole, turni di mattina, turni di pomeriggio, non saltano un allenamento. Sono sempre presenti, ne facciamo cinque sedute di allenamento su base settimanale e sono sempre presenti. E la cosa più bella è che sono tutti quanti i ragazzi che hanno ottimi risultati anche a scuola, per cui da questo punto di vista più contenti di così non potremmo essere. Ma beati loro, guarda, che vanno bene a scuola, nonostante la DAD e tutti questi escamotage per mandare avanti l'attività scolastica. Roberto, io conosco i coach, li conosco molto bene, Sebbi D'Agostino e Massimo Moraffari, in bocca al lupo a loro per questa nuova esperienza. I giocatori sono gli stessi fondamentalmente del gruppo? Sì, sostanzialmente sì, per questo ti parlavo io, che è un nucleo, un gruppo storicizzato, c'è qualche innesto nuovo, ma sostanzialmente è un gruppo che lavora da parecchio tempo insieme. Sì, sì, è un gruppo collaudato, per chi non lo ricordasse, lo ha visto negli ultimi anni, prima con Jumping, prima ancora con Aquilone. Io fondamentalmente l'ho visto fin dal mini basket, larga parte di loro. È un gruppo passionale, me lo conferma. Assolutamente sì, assolutamente sì, lo vediamo tutti i giorni di allenamento, tieni in considerazione che tra le tante altre cose ne abbiamo delle cinque tornate, una dedicata esclusivamente alla preparazione fisica con Santo Vazzana, che li uccide, alcune giornate sono sfiniti, ma non dicono una parola e continuano a lavorare senza perlazionare. Io sono contento che ci sia Santo Vazzana, anche perché Santo non è un preparatore qualsiasi, è un preparatore da giocatore importante, fin da mini basket, con la scuola di basket Viola. E secondo me avere un preparatore del genere, un po' come può accadere anche avendo Fabio Falcomatà, per esempio, fa tantissimo. Assolutamente sì. I ragazzi riescono a far loro determinati comportamenti, atteggiamenti da giocatori. È un modo di vedere le cose in maniera diversa, anche di crescere mentalmente, anche perché sia Sebi che Max preparano dal punto di vista tecnico in un determinato modo, Santo ovviamente fa il suo lavoro con estrema professionalità, tutti e due per cui uno staff tecnico di assoluto interesse da questo punto di vista. Roberto, i rapporti con la prima squadra, con la pallacanestro Viola, che prova a spingere, nonostante il problema dell'impiantistica, verso il futuro, verso strutturarsi ad ampio raggio con un settore giovanile. Assolutamente sì, per questo si parlava di quest'anno, la pallacanestro Viola ha voluto sposare questo progetto, proprio per strutturarsi anche sulla parte dell'attività giovanile, anche un segno, un punto di crescita anche dal punto di vista societario, perché non ci nascondiamo dietro un dito, che sostanzialmente qualsiasi campionato possa essere fatto, l'attività giovanile è un traino assoluto e indispensabile. Tu fondamentalmente sei il passaporto su questo, perché per tanti anni, da tanti anni ormai, oltre a fare il tuo lavoro, praticamente sei costantemente alle prese col basket giovanile di Calabria. Ti mancano un po' con le rappresentative, tutti i percorsi federali che si sono... Tanto, 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 tanto perché anche quello è un momento di crescita per i ragazzi. Io spesso e volentieri faccio il ragionamento, sempre lo stesso ragionamento. Il percorso che io ho seguito quasi dall'inizio con Simona, con Simona Pronestica e saluto, è un percorso di estrema crescita che ha coinvolto tutti i ragazzi, anche di società che magari non avevano la possibilità di affacciarsi a delle finestre, a dei campionati più importanti, per cui di paragonarsi a un taglio tecnico un pochettino più elevato. Per cui è tutta una parte di attività che è estremamente importante anche quella, per cui l'essersi fermato tutto il motore federale non è una gran bella cosa. Purtroppo anche questa è la conseguenza di questo momentaccio sul quale ci siamo imbattuti. Tra pochissima avremo ospite Anna Trotta, che è una delle colonne portanti della Centro Basket Calanzaro, della B femminile. Quanto impegno ci ha messo questo comitato per provare a risollevare il basket femminile con tutti i progetti correlati, partendo praticamente da sotto zero e adesso vedere che è tutto fermo lascia un po' arrabbiare. La mar in bocca. Lascia la mar in bocca perché tanti progetti che si erano iniziati e che avevano come finalità quella di cercare di promuovere, soprattutto anche il comparto femminile, una problematica che è fortemente legata ai numeri, ai tesserati. Fermare tutta questa attività è veramente poco piacevole. Questo vale per tutto, ovviamente, ma la femminile fa ancora più male perché si stava provando a risollevarlo in qualche maniera. Io leggo il messaggio di Anna Storino, Roberto, grandissimo dirigente, di una persona fenomenale. Un saluto. Un saluto affettosissimo anche. Io saluto, colgo l'occasione, prima l'hai citata, per abbracciare Valerio e Simona, Simona Pronestino, ovviamente, che Simona, insomma, non so se lo sai, ma stiamo lavorando insieme per la rappresentativa femminile delle 2020. Lo so, lo immagino, che possono essere i componenti. Sì, abbiamo le gemelline Travia, e poi abbiamo qualcuno pure di là. Se mi date la possibilità, mi farebbe piacere poter essere il dirigente anche di quello. Guarda, abbiamo fatto una lista. Abbiamo anche una diratrice che è la primogenita di Casa Pellicano. C'è anche, se non ricordo male, la figlia di Massimo, e quale mando i miei più grandi auguri. C'è la figlia di Massimo, anche se l'è 2021, ma per questa volta, insomma. No, ma si possono, delle erove federali si possono sempre trovare. Non è un problema. Ti posso garantire che, conti alla mano, abbiamo anche le gemelle battagliere di Gioia Tauro, secondo me ci sarà da divertirsi. Assolutamente sì. Un po' magari questo video ce lo ricordiamo. Roberto, in bocca a lui, buon lavoro. So che ce ne hai tanti. Vive il luco. E forza e coraggio. Altrettanto. Ti abbraccio. Ciao Roberto. Ciao, buona serata. Era Roberto Priolo, il dirigente della Pallacanestro Viola, Under 16. castigna f�cagione.